Wella ragazzi, ciao a tutti le nic e ragazzi, bentornati qui su Farming Simulator 22 nella mappa Nord-Est End Ragazzi, anche oggi siamo qua in compagnia del signor Midicaccio Ciao ragazzi, belli Allora ragazzi, oggi finalmente andiamo a prendere i porci Oggi i maialini, le maialine, insomma quella roba lì E che da un po' che devo farlo Allora però, come ben sapete, questa è la serie senza debiti E non ho i soldi per farlo, però per fortuna abbiamo i cavalli Come nell'altra serie, pure qui mi sa che li vendo Anzi, a dirla tutta, mi avete anche suggerito Guarda Nic che puoi modificare lo script, quello che alza il valore dei cavalli In modo tale che lo modifichi, in modo tale che salgono più in fretta di valore Perché effettivamente ci mettono un botto di tempo a salire di valore Cioè i 50.000 euro non li abbiamo mai visti Quindi quasi quasi ci avete anche ragione Potrei un po' migliorarlo su script Così che invece di metterci 10 anni ci mettono un po' di meno Comunque vendiamo i cavalli Li vendiamo e così abbiamo parecchi soldi da parte Tanto, oh, hanno un gran bel valore già adesso 30.000 euro Pure me, vabbè, sì, vendo anche questo dai Cioè alla fine hanno un valore ancora più elevato in confronto all'altra serie Li ho venduti a 22.000, qui stanno a 30 E poi mi servono anche i soldi per comprare un terreno eventualmente A proposito, di fatto c'è da seminare Allora, benissimo Ma compà, fammi capire una cosa Ecco Ma quanto tempo ci mettono per crescere? Più o meno tu ti sei fatto un'idea? Crescere cosa? Per arrivare a 50.000 euro di... Eh, è quello che sto a dire, non lo so È da tanto che stanno qui, non ci sono mai arrivati Quindi Sto script almeno dovrei raddoppiare la velocità Perché è molto lento Cioè almeno, non so, farming 19 a 50.000 Ci arrivavano In un, non lo so In un anno Eh, quindi O un anno o due anni? Sì, da cosa del genere No, qui è molto più lento mi sa Va bene ragazzi Quindi abbiamo un bel po' di soldi adesso Ho anche ricoprato i cavalli, giustamente E... Allora, praticamente Voglio andare a piazzare L'Old Pigsty È una mod che ho trovato E a proposito, mi sono ricordato una cosa che vi devo dire Comunque La Old Pigsty Eh, questa qui voglio mettere È una mod che ho trovato nel mod hub E... E ci vanno i maiali Eh, e stavo a dire A proposito di mod, raga Finalmente la Giants Ha Approvato le mie mod Cioè I fichi d'India E l'aggiornamento di questa mod qua Della legna Finalmente la Giants Sta facendo gli ultimi test Su console Di solito Quando la Giants dice Test su console Significa che è andato tutto bene E di solito Non ho mai fallito i test su console Quindi in pratica Dovrebbe uscire Dovrebbe Dovrebbero Uscire Allora Dovrebbe Quindi Sì, no, no Io penso che questa settimana escono Allora Lo so che lo spazio è poco, raga Ma qui ci sta, dai Qua ci sta Ci sta Sfrutto Fino all'ultimo centimetro Lo spazio che ho Lo sfrutto Ah, vabbè Qui c'è l'ingresso Porca cazzozza Dimmi Vabbè, ma ce n'è uno Anche da questo lato Mi va bene Va bene lo stesso Va benissimo Allora Qui ci vado a mettere Ah, comunque Devo Si devono seminare Con un paio i terreni Quelli nella seconda farm Stanno al centro Se guardi la mappa Al centro C'ho due terreni Uno grande Uno piccolo La seminatrice però Non mi ricordo dov'è Vabbè, ma basta che fai i tab La trovi E non lo so E mo' vediamo Il terreno nella seconda farm La seconda farm è sopra Verso il centro della mappa Più o meno Ah, ok Il 34 Quindi Mi pare che quello Dovebbe essere Ok, raga Guarda C'è una nicchia Che Piantina Questa non è una piantina Questa è una piantona Metto l'erba Vabbè Capito Faccio da me Ok Dentro Vabbè Dai pure che è fatto di cemento Che me frega Tanti maiali Stanno bene ovunque Allora Dunque Fatto ciò Ragazzi Andiamo a vedere Questa Old pigsty Che In teoria Adesso Si dovrebbe Trovare Qua Visita Ok Apri Bene I maiali Ragazzi Beh Li compriamo direttamente Tanto Allora Pezzato nero La seminatrice Tu più o meno Con cosa La usi In che senso Con che tratture Ah non lo so Quello che ti pare Basta che c'è un bel po' di cavalli Non lo so Che ne sanno Siamo in Lamborghini Eh buono Allora raga io comincio a comprare 30 maiali Poi altri 30 si riproducono da sé Penso che è sufficiente no? Penso Oppure li compro già belli maturi Così che poi li andiamo Sì vai maturi che poi li Si Cioè Nel senso che poi sono buoni da macellare Vai Ok Ho comprato 60 maiali Che devono solo Diventare belli cicciottelli Diciamo come a miticaccio E poi E poi insomma Come Come ex miticaccio Come ex miticaccio E poi praticamente Ci facciamo A sassizza Mmm Bona Bona sassiccia Bona Ok Quindi Ora Ci vuole Il cibo Allora vabbè Qui raga Vabbè è un ingresso Per entrare a piedi Dai Porfietto Porfietto E abbiamo l'edificio Con i maialini Qui fuori Ci hanno anche L'albero azzurro Con Dodò Vabbè ma Ma voi siete troppo giovani Per sapere queste cose Dici ma chi è Dodò Eh no no Lo fanno di nuovo eh Non c'è Dodò Ma l'albero azzurro c'è Ah si Questo sta cagando Il maiale cagante Il maiale omega Praticamente Eeeh Allora Cosa dobbiamo Piantare Eeeh Non lo so Eh me la devo caricare Aspetta Sta qualcosa qua Do stanno Vedi un po' Vedi un po' Che manca Mi compri qualcosa Do sta qua Dove si carica Allora aspetta un attimo Ah Che cosa ti devo comprare Compa scusami Mi sento Il semi è fertilizzante Do ce l'hai Do Do li metti tu i cosi qua Ieeh Un attimo Mi sto inquadrando i maiali Mi sto inquadrando Ah Hai inquadrato i maiali Certo Fai pure Fai pure colazione insieme Anzi no cena Tra un po' Ah scusa Sta a portare i maiali Ne faccio vedere Vabbè Hai ragione Mo passo a vedere te E' uguale Appena ti vedi in mappa E' uguale Uno o l'altro Un maiale o l'altro Tu dici no Siamo sempre dei maiali Sei Vabbè va faccio io No no Siamo No sei 6 e 7 Ti metto sempre da parte Vabbè vabbè Ok Oh i semi Madonna mia Gli dico fai una cosa Per liberarmi di lui E mi rompe le balle No me la vedo io Compa 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 Non ti preoccupare Ragazzi Mo me la vedo io Tranquilli Fai le cose due Che poi in teoria C'avevo addirittura Addirittura In teoria C'avevo la produzione Dei semi In teoria Ma poi non mi ricordo più Come funziona Semi E allora Dai quattro cose Li compriamo E buonanotte Vabbè Ho comprato Quattro sacchi di semi Ah E allora Cosa seminare Ok Fammi vedere Aspetta Sorgo Frumento ne ho tantissimo Avena Avena Cristina Avena Molta avena Molta avena Se era periodo Anche mais Perché quelli Mangano che Ma non è periodo È periodo Di raccolta Del mais Però volendo Il mais Se c'è un terreno Lo si compra Col mais Beh sì Ci starebbe Ma i soldi ce l'hai Eh Sì lo so Aspetta I terreni Sono quelli Il terreno 20 Ah Eh ce n'è un po' Sarà maturo Visita Yes Terreno 20 Dai Almeno per i maiali È sufficiente per ora Vai Ok Ma portate a mangiare i maiali Vaga Assume mi dici parole No 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 Tu che c'hai Ho detto seminare Vai seminare i maiali Ma vedo io un attimo No detto a te Porta il mangiare i maiali Tu portalo Allora mais Frumento Orzo Colza Girasoli Semi di soia Patate Mizzica Quanto cacchio Di cosa vogliono questi Salve Vabbè Ci vado Ma il 37 O il 34 Devo Ma fa uguale Compa Non cambia niente A me Semina E ma qua è da coltivare E perché quello Non lo fa pure Ah vabbè Io C'ho già C'ho no E Purtroppo Mi c'è messo in mente Un'idea diversa Compa Io quando vedo il campo così Lo aro Lo pulisco tutto E poi ci semino da sopra Vabbè È un complesso mio Compa Non ti preoccupare Senti Tu hai il compressore Va bene Ma dov'è che si carica Qua Ah qua si carica Guarda Limoni Dottoressa Limoni E Che abbiamo Qua dentro Niente E allora Pichi un po' Di frumento E vediamo Ragazzi Qua dentro Manca tutto E questo pallo elettrico Posso andare convinto Oh Sì vai 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 Intanto mi pare che è finto Ah ok Ok È un'illusione ottica Vedi È bello Allora dove è Ma guardi nelle realtà Ste cose Compa La trebbi è qua Manca la lametta Porca zazzo Se te la mette il giletto Quanto costano Parecchio Molto cari No il forso Il buco Eh Lascia sta Allo suo buco Ascoltami Le aggressioni È mai uscita Uscirà Sta per uscire Eh che io mi serve Mi servono i lame Quelle piccole Vabbè questa Eh sì Ah ma questa pure Si chiude mi pare Vuoi vedere che la Cressoni Con palla Butto così E uscirà Quando uscirà L'End of Italy Eh che ne sacci Così C'ho uno strano Dubbio del pensiero Io intanto Non riesco a uscire Manco dalla farm Ora sì Farm Farm Peccato No Sì Hai non collato Gionic Con l'Attack Nella farm Io ho collato Tutto mi sono Mi sono collato Dai So contento Che escono Ragà Le mie mod Finalmente Io pensavo Mo L'Incubo Altri problemi Da sistemare No Meno male Sto incondiendo E tu sei bravo Compa Che problemi C'hanno da sistemare Compa Eh Ma mo il cibo Ah io lo Ficco dentro Ficcalo Ficcolo Compa Oh no Da fuori Da fuori Ok Ah vabbè Sì no A proposito E' vero C'è da dire che Questi faranno liquame E' vero No aspetta C'è anche da dire Che questi fanno cacca Però se non ci metto Il coso Non ne fanno La paglia No se non ci metto Anche dove la fanno Il Il Recipiente La insomma Ah tu dici Dove va il concime L'estensione Cibo base Che sarebbe Quindi il mais Penso Proteine Le patate Ma io le patate Dove Allora abbiamo fatto Le patate Sta mappa No Ah voi Eh Eh appunto E allora Le devo andare a trovare Vero No perché No perché Ah Ah si ce le ho Nell'altro silo Ce le ho si Mi pare almeno Patate qui Niente io Non ho fatte Come no L'altra mappa Qua patate io mai Forse tu le hai fatte Ma io non ho mai Mai con pa' patate qua Oh compà Senti Le abbiamo fatte Insieme le patate C'ho pure messa Qua in questa Oh no Non c'ho anche messo La miniatura bella Mi ricordo Ah è vero L'ho fatte io Le patate qua È vero Nell'altra farm Sì L'ho raccolta io Raga scusatemi La vecchiaia Raga Porca miseria Mi mette A meno che Perdonatemi ragazzi Quando pure voi Riverete 39 Capire 38 Quello che è Ne ho 36 Quindi sono confuso Pure io Sì 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 Le ho raccolte io Tutte io le ho raccolte E andavo a scaricare Col frugoncino blu Sì Esatto Ed è qua che Mo me le vado a riprendere Cioè dovrebbero stare Abbiamo pure un botto Ne abbiamo 195.000 E 200.000 Le ho messo a farci Le patatine fritte No Ah no Le patatine lavate No no Mi hanno detto Che dovrebbe essere Tipo purè di patate Una roba simile Mi pare Ah buono Buone le purè di patate Io le adoro E poi dovrò comprare La maicelleria Raga Buona salsiccia Non solo Costolette di maiale Anche sì Puntine di maiale Aspetta un attimo Che mo ce ne metto Non troppo Perché non vorrei sbagliare Che di solito Di questo ne Pigliano poco In teoria Invece queste Ne pigliano tantissimo E invece mi sa Che ne pigliano Un botto E beh Sono 60 maiali Eh compà Ah queste Sono frutti Della terra E proteine Ah proteine Saranno semi di soia O il mais Che cacchio Ne so io Eh veramente E veramente i maiali Si mangiano di tutto Eh Si pure a te Si mangiano Tu la voglia La voglia che si mangiano Pure a noi Un po' A trebbia si dispiega Vai E' arrivata Ti va a fa' U maise Il buco Secondo io è il più grosso Di forse Di tutta la mappa Te piace lavorartelo Eh si perché Se no tu mi rompi Le palpebre Eh si 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 Te lo devo far arare E poi Con l'aratro Quello la che dico io Si No no Quello Due centimetri No Dimentica Mai Non mi avrete mai Con quell'aratro Mai Dai dai Dov'è il trattore Dov'è il coso Sta arrivando Io già Quasi quasi Io lo riempio Sono male Ah è arrivato Manco l'avevo visto Guarda Eccolo la E tre E due E uno Ma Maiale Hai preso un misto O tutti rosa Tipo Tutti uguali Che me frega Tanto tutti i canni Diventano Cosa cambia Così per Creare un po' Di arcobaleno Dentro la fattoria Tutti Sasizza Diventeranno Avanti Scarichiamo E andiamo A dare anche Un po' Di questo Che poi Avevo detto Ragà La prima farm Doveva essere Per gli animali Però alla fine Non c'era Non c'è spazio E allora Tanto avevo anche Già le pecore Lì Va bene Vabbè Ma le vada Fai così La lasci L'importante È che Li ho piazzati Omo Andavo a spendere Centomila euro Per piazzare Solo i maiali No Almeno ho sfruttato Lo spazio Che avevo E via E qui lentamente Giro Scarichiamo Allora Che cos'è Campo mio Campo bello Se troppo grande Per il mio Orticello Ah questo È cibo base Ok Allora Le proteine Che cacchio Sono I semi di soia Oh Colza Boh Che però Non ho Nell'uno Nell'altro No ma tanto Non ne ho Non ho Né semi di soia Né colza Mi pare Oh no Prezzi Oddio Boh Aspetta Io non lo sto a capire Non lo so Sinceramente Non sto a capire Se c'ho Non c'ho Eh Devo guardare qua No Non c'ho Niente Aspetta un momento Ma noi Ma io Ho In teoria Non mi sto ricordando più Aspetta 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 Guardando Da qui Si vede Ok Orza Vena Colza No 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 Né colza Né semi di soia Vabbè Ma quantomeno Non c'è la mod Che puoi comprare Pallet Sì Però Se No Cioè Il discorso è Se ce le ho Le cose Buono Eh raga Fatemi sapere In caso le proteine Cosa sono Magari Le posso seminare Poi no Tanto ancora Abbiamo terreni liberi Almeno uno C'è di sicuro Libero Quello piccolo Uno Si può comprare Provo con orzo Tanto Penso che lo pigliano Lo stesso No vediamo Dai Che ce la fai Bravissimo Gira così Brava Stavo andato Di nuovo nel fosso Mi ricaccio Che Che si auto Complimenta Si auto Incoraggia E per forza Stavo andato nel fosso Sono rimasto A capo A capo in terra Fra E poi si è alzato Solo solo Si è alzato Solo solo Compa Vedi Ancora è buona La tua età Eh beh Certo Allora Non c'è bisogno Della chiamata a casa Dell'aiutino a casa Non c'è bisogno Non c'è bisogno Di Nio Che ti passa La pillola No aspetta Non Nio Quello era Quello era Coso Quello Non hai bisogno Di Morpheus Che ti passa La pillola No 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 Sta bene Va bene Ragazzi Qualcosina da mangiare Gliel'ho data Ora poi le proteine Se mi fate sapere Però vabbè Ho capito che Questo è mais Questo è frumento orzo Questo dovrebbe essere Patate Quindi questo sarà Forse colza Semerisoya Sta bene Ragazzi Io mo concludo Che il tempo Gli è volato I maiali Li abbiamo presi Un pochettino Di Io ho quasi Finito il campo Un po' di mais Mi avanza Buono Per i maiali Ovviamente Sta bene Ragazzi Noi ce la Concludiamo Spero che Vi sia piaciuto Il gameplay Ringrazio ovviamente Mi ricaccio Per la compagnia E vi ricordo Che in descrizione C'è il suo canale Youtube In descrizione C'è un link Per comprare Questi e tanti Altri giochi Scondati E i miei social E tanto altro Ecco lì Mi dicaccio Che lavora E allora Ragazzi Niente Qui abbiamo messo Stiamo a mettere La vena Così per i cavalli Che li abbiamo Venduti Anche oggi Ragazzi Quindi Eccolo là Vi salutiamo Ragazzi E ci si becca A presto In un prossimo gameplay Ragazzi Ciao ciao raga Ciao raga Ciao